ciao cari amici e bentornati sul mio canale a volte noi pesca sub non ci rendiamo conto quanto siamo privilegiati perché nonostante facciamo di tutto per cambiare il comportamento del pesce a nostro favore e a volte ci riusciamo come in questo caso il mare trova sempre il modo per stupirci e ve ne renderete conto qui ho fatto una discesa silenziosa su un fondale di circa 16 metri e ho visto dei saraghi e voglio avvicinarmi per vedere se c'è una cernia nel mezzo a volte ci sta la cernia non c'è ma da un canale vedo salire una bella orata che provo a richiamare il richiamo di glottide incuriosirà l'orata io concentrandomi sull'avvicinamento dell'orata non mi renderò conto della scena che mi si sta presentando intorno l'azione finale mi darà piacere ma pure un po di tristezza dopo capirete il perché buona visione Il nostro corso è usato un po di tristezza per la scena del cuore Grazie a tutti. Sì, cari amici, bellissima, ma una sola. Purtroppo quella dietro è riuscita a strapparsi e probabilmente morirà. Voglio sperare di una bella presa in punti vitali e magari rimanga in vita. Non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Buon mare a tutti.